Muoviamoci! Buon colpo! Rimbalzo! È rimbalzato! Abbiamo perso un cingolo! Siamo fermi! Cingolo sistemato! Andiamo! I need help! Siamo fermi! 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 Entrato! Siamo fermi! 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 Elefetto! Siamo fermi! Siamo fermi! Siamo fermi! Siamo fermi! Siamo fermi! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'abbiamo preso. Andiamo. 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 Andiamo! Colpito! Li abbiamo danneggiati! Bel colpo! Abbiamo preso! L'abbiamo preso! Comandante colpito! Cosa sta succedendo là fuori? Veicolo nemico distrutto! Comandante colpito! E abbiamo danneggiati! Colpito! Abbiamo un cingolo danneggiato! Comandante colpito! Centrato! Centrato! Pronti al fuoco! È rimbalzato! Siamo immobilizzati! Cerchiamo un altro bersaglio!